Salve, sono Gaetano Morese e vengo da Salerno, rappresento la Campania, sto in Brasile al Vinarium con Ciro Sabella. Ringrazio tutti per questa magnifica settimana, grazie e speriamo all'anno prossimo. Ciao a tutti, sono Ciro Sabella, chef proprietario del ristorante vinario a San Paolo. Il nostro ristorante esiste da dieci anni, io sono napoletano, facciamo una cucina prevalentemente della mia terra. Siamo nella Lameda Rolena, nel quartiere di Giardins, che è il quartiere storico di elite di San Paolo.